Sì, sicuramente, oggi è una giornata di festa di chi ha investito del tempo nella propria vita per accrescere le proprie competenze nell'ambito dell'università. Ovviamente l'auspicio è che queste competenze acquisite le possano poi sfruttare nel percorso della propria vita professionale, umana, personale. Oggi hanno in mano le possibilità di fare ciò che vogliono, di andare all'estero, di restare in Italia, di restare in Trentino. L'auspicio è che facciano ciò che credano ma che provano anche magari di investire ancora sul sistema Trentino. Abbiamo bisogno di intelligenza, abbiamo bisogno di giovani che vogliono anche restare qui. Ora facciano le loro scelte che sicuramente saranno le migliori.